Il suo non è un sello sicuro, ma se il Partito Democratico andasse bene alle elezioni del 25 settembre, il sindaco di Giuliano potrebbe approdare a Roma come rappresentante dell'intera provincia di Vicenza. Sandro Maculana è infatti candidato con il Partito Democratico nel collegio Veneto 2, con capolista Beatrice Lorenzin, ex ministro della salute nei governi Letta, Lorenzi Gentiloni. Non ha scelto lui di candidarsi, ma ha accettato di buon grado la proposta arrivata alla segreteria nazionale dai circoli di TN Schio, confermata nell'ottica di avere amministratori locali nelle liste. E' proprio l'essere un sindaco che secondo Maculana è un punto di forza, siamo consapevoli che c'è uno scollamento tra la politica romana e la vita vera della gente, noi sindaci siamo il riferimento dei cittadini, il termometro della vita reale. 56 anni al suo secondo mandato come primo cittadino Maculana nel PD praticamente da sempre, ma si sente libero di esprimere il suo parere anche quando è in contrasto con le linee di partito.